Un evento interamente dedicato al genere cinematografico dell'horror. Al Multicinema Galleria di Bari, sabato 11 maggio, sarà una serata da paura con la Notte Horror, in cui dalle 23.30 in poi gli spettatori saranno accolti nel multisala barese, allestito per l'occasione a tema, con un tavolo degli orrori, a cura della storica dell'arte italo-indiana Tara Jabul, e ancora luci basse, macchine del fumo e alcuni figuranti che si aggireranno nel multisala, sosia di alcuni dei personaggi più celebri del cinema horror mainstream. La nottata, nata da un'idea di Carolina Pezzolla, è realizzata in collaborazione con Monsters, Taranto Horror Film Festival, Sergio Ivens, curatore delle installazioni a tema e dei figuranti presenti, e la community Horror Online Deep Fear, Horror Cinema Rankings. L'evento permetterà agli appassionati del genere di assistere, nelle sette sale del Galleria, ad una serie di grandi film cult del genere, scelti tra classici del passato, anteprime assolute e alcuni dei titoli più ricercati degli ultimi anni. A classic Horror Story del 2021, dei registi baresi Roberto De Feo e Paolo Strippoli, che saranno presenti in sala per introdurre i film, e ancora Scream del 1996, La Mosca del 1986, Audition del 1999 e molti altri. Ogni proiezione sarà preceduta da una selezione di cortometraggi horror, curata dai direttori artistici del Festival Tarantino Monster, Massimo Causo e Davide Di Giorgio.